Secondo le statistiche di YouTube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie Decidete voi chi vince Ma che sport è? I medagli che hanno fatto solo per lui Scusate ragazzi non so a volte che cosa succeda Succedono delle cose ingestibili delle volte Io chiedo scusa a tutte, voi, due Ma sai che invece ammiro le persone che entrano proprio così e se ne fregano Cioè mi piace che facciano un po' quello Se volete vedere l'outfit, facciamo un quanto costa il vostro outfit Aspetta, girettino iniziale e quanto costa il vostro outfit Allora, quanto costa? Guarda che c'è una mosca Ciabatta Nike Ciabatta Adios Ciabatta Nike 30 euro Un cinquantino perché è quella costa per la corsa Ok E tu ti lasciai in 15 euro Ok Marsupio Ah Marsupio Direi 15 euro meglio spesi che abbia mai visto Ma che ne sono Quei fiori lì Hanno una storia Comunque, ragazze Allora, innanzitutto vorrei che voi prendeste questo microfono Con voi stesse Quindi vi sedete e tornate nella vostra posizione natale Ehm Sediamo Veniamo ovviamente nell'ambito Allora No, no No Non mi sento bene No, la truffa è stata scoperta Ma Scusate ragazze È successa una cosa che non era nei programmi Gioco Adesso chiacchieriamo Giulia Chiacchieriamo Tu sei una persona che ha un sacco di Ma hai fatto i colpi di sole Oppure no No, no Ma ragazzi non sono neanche truccata Perché sono Sei bellissima comunque Davvero? Sì, te l'ho detto anche prima che iniziasse la live Non è per la live L'ho detto anche prima Davvero? No, poi io non mi vedo molto Sei molto più bella truccata che struccata Truccata? Sei molto più bella struccata che truccata Ah, hai detto il contrario No, hai detto sei molto più bella struccata No, non è vero Vabbè, grazie, grazie, grazie Comunque Quando non mi piacciono i capelli Quando non mi piacciono i capelli Se mi è stata a disagio con me Non mi devo reclutare Vai, reclutate Non ci deve stare spazio per altri esseri umani Vai, vai Ma c'è un po' di alcol Ciao Iris di Domenico Ciao Prima l'abbiamo fatta piangere Mannaggia Perché, perché? No, siamo adesso super allineati Tutto un errore Tutto un errore Cosa è successo? Hai chiesto se è vivo il cane? No, è vivo E che sta male Quindi No, perché questa cosa su Twitch è già successa Dai, ci stiamo per spettare Aspetta, guarda Sì, sì, così ti posso segnalare Cos'è che dico? Wow, bello No, perché non condivido lo schermo Neanche l'audio Vedo subito Doraemon per Murakami Dietro, bellissimo Ma dai, ma stai Ma sono strani perché sono un po' anni 90 Guarda tutti i bambini sulla sinistra Ma non ce ne guardo Sì, guarda Provo di farmi annusare da te ora Scopi e ci disposi tra Brisida Valentina Enclerici Giulia Non rispondo Ok Lui è praticamente La sua fidanzata Lui è il mio manager La sua fidanzata Praticamente Cioè lui continua Il primo cazzo che vuole Che la sua fidanzata Conosca te Perché tipo Siete uguali Quanto pare Ok Vuoi conoscerla? Sì Ha detto che siete uguali Cioè tipo lei È super fan di K-pop Ah ok Allora sì Veramente? Sì Ok allora Oh mi ha scritto adesso Ah ok Ah ma ha descritto Ma che cosa? Tava il messaggio pronto praticamente Ok Clau questa è la descrizione Della sua fidanzata Ok I suoi per te di TikTok Sono solo BTS e roba coreana Adoro Reagisce uguale a Claudia Nelle istituzioni Street Kids Super fan Adoro È una make up party Stiamo al make up Guarda gli anime Le piace animale cross Adoro Super fan Le one direction Ai capelli colorati Veste in stile coreano Timida con chi non conosce Sembra antipatica per questo In uno dei suoi video più virali C'è Rosalba e la trucca La trucco? Le piacciono le canzoni di Rosalba Non è una gran fan della musica italiana Persona riservata Sono stata leggere Madonna Che sembra veramente Tinder di amicizia Assurdo Questo qua è un TikTok Come truccare Rosalba No 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 È una prezza per i fondelli Ma dov'è? Ma dov'è? Era su Aspetta Forse su quella pagina Lì che carica tutte Cagate Aspetta No ma T'ha fatto proprio Di complimenti Della Madonna Sì E poi Non mi piace molto Come ti vesti Perché secondo me Potresti valorizzarti Molto di più Ok Perché Giuro Simone Questo lo penso Penso che se tu ti curassi Un pochino di più Saresti veramente Molto bello Invece Invece sono una merda No 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 Sei molto carino Però intendo Non ti Cioè Non sei lì a pensare a cosa Ciao 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 Sono Insigurato Mi sono Va bene Va bene Leti Qual è la tua più grande paura? Occhio Oltre quella Che è la mia però Prego Le cose non si chiedono Si fanno Rubino Cioè se vuoi farla sedere Ti alzi La fai sedere Cristo Dio Nel cazzo vuoi? No 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 Si chiama Il rossetto Il rossetto Var Cosa var? Cosa ho fatto? Non ho guardato niente Non ti ho guardato Delle parti Anche perché Cosa? No ma poi Cioè in canottiera Deve aver guardato Ma var cosa? Ma cosa Ma cosa stai dicendo? Non ho guardato niente Veramente ross Cioè ross per me è veramente Grande amica Voglio veramente bene Abbiamo un bel rapporto di amicizia Si Ti like o sì Ti cura? Sì Veramente? Sì Ti dico non rispondo E non rispondo Vai Ehi ross voglio dirti che la tua canzone Bubble Tea Mi ha letteralmente salvato la vita Non sto scherzando Grazie a te mi sono rialzato E so che in questo momento Hai altro in mente la moda E tutto il resto Ma ti prego Mi inginocchio Ritorna anche X1 Song Grazie Posso fare quella domanda di quaggia? Sei sicura? 100% Sì Sì Alla brutta non rispondo Te l'ho detto Ok Mea tutu eh Sì Ok Ok Sesso anale Pro o contro? Non rispondo Madonna però è E qua Aspetta però sei più dietro Quindi Così 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 Qui è proprio La situazione diciamo Che sfiora il paranormale Perché Si sembra un gigante Ne sembriamo padre e figlia Secondo te Secondo te nel nostro Anzi Se noi fossimo fidanzati Secondo te chi sarebbe Sentite Sentite ragazze Qual è secondo voi Quell'outfit Che indossa un ragazzo Che voi Cioè dovreste Tipo l'appuntamento Ideale vostro Nella vita E dite Vorrei che il ragazzo Con cui esco Si presenti Vestito in questo modo Come vorreste Che si vestisse Ammaranza No 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 L'hai vista Tu l'hai vista Vuoi vedere È la mia compagna D'elementari David Ho buttato Ti sei cagato Allora Lasso David No Dalì c'ho fatto Anche i donpi Storti Pietro Pietro È mio ex No No Stiamo Pietro Storti Ciao non sapevo adesso è allo sul tavolino non lo sai? io l'ho visto mentre rimadiamo, è strasimpatico senti io mi sento già dimenticato vostri nomi mi chiedo scusa